scuola aperta di pomeriggio e oltre 300 alunni impegnati in attività sportive percorsi di conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale laboratori di cittadinanza e sviluppo del pensiero computazionale accade all'istituto comprensivo castellabate grazie ai diversi progetti finanziati con i fondi pon fse il nostro istituto spiega la dirigente scolastica gina a moriello è impegnato in un grande sforzo organizzativo per realizzare al meglio tutti i progetti pon fse che ci coinvolgono possono essere di grande stimolo per la crescita personale sociale e culturale di bambini e ragazzi svariati plessi restano aperti molti pomeriggi a settimana oltre il normale orario garantendo a famiglie e alunni l'accesso a iniziative extracurriculari coinvolgenti e del grande valore formativo l'obiettivo è favorire l'apprendimento la socializzazione la crescita dei nostri alunni come soggetti attivi e responsabili prevedendo i rischi di dispersione ed intervenendo in modo mirato per le situazioni di disagio e i bisogni educativi speciali oltre ai corsi già attivati nei mesi scorsi per potenziare le competenze di base inizia il progetto mettiamoci in gioco con il modulo di 60 ore giochiamo che coinvolge 25 alunni della scuola primaria di santa maria per il potenziamento dell'educazione fisica e sportiva nell'ambito del progetto nazionale sport di classe saranno sviluppate le competenze legate all'attività motoria per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita salutari favorendolo stare bene a scuola in un'ottica di inclusione sociale di orientamento delle attitudini personali nelle ultime settimane ha già preso il via il progetto dal patrimonio culturale un patrimonio di competenze per il potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico il progetto che vede capofila e l'is ansel keys di castelnuovo cilento coinvolge come partner l'ic castellabate l'ic torre de mattia di vallo della lucania e novivelia oltre 100 alunni della secondaria di primo grado dell'ic castellabate sono impegnati in sei moduli formativi che prevedono escursioni tecniche di storytelling sia in italiano che nelle lingue straniere modellazione virtuale in 3d marketing territoriale attività creative allestimento di location urbane costruzioni di percorsi turistici tematici quindi attiva